Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi mi trovo su Arche e vedremo insieme alcuni comandi da utilizzare ovviamente con la funzione di amministratore, quindi in single player oppure se avete un server privato, per sponare tutti gli oggetti e gli animali dell'evento di Halloween. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.